ciao a tutti ragazzi benvenuto questo nuovo gameplay dei congiuntivi oggi vi spiegherà sempre il mio collega cosa faremo perché è un gioco nuovo di tu e bobino intanto benvenuto anche bobino c'è dall'altra parte ciao ciao a tutti allora questo nuovo gameplay vi porteremo la bellezza del gioco world of tanks veramente un gioco in cui si può giocare anche si giocherà principalmente online dove tutti compri un carro armato si fa battaglia per conquistare la bandiera noi ci siamo messi assieme perché siamo riusciti a chiamare i produttori del gioco mi ha detto giochiamo insieme o niente allora ci hanno fatto giocare assieme abbiamo si è ufficiale proprio bom questo gioco comunque lo potete scaricare su play 4 gratis è free e free vero free è molto bello ben fatto bella grafica e anche bello giocatore io direi di iniziare subito immediatamente scegli e vai cos'è preso io sceglierei il panzer 2 quindi mi classe 2 si o no volevi essicero tutti classe 2 3 1 di 3 mi prendo il t2 medium americano via anche tu via perché so già che mi becco il coso già che mi becco la mappa in cui bisogna correre se mi becco il cararmato lento ecco i fatti allora siamo nella provincia notte no ragazzi questo gioco è veramente bello no veramente bello cioè ben fatto sì alla fine come code cut duty soltanto che con i cararmati c'è un tanti tipi di cararmati nel senso cioè non è che ecco iniziamo allora nulla nulla sta indula andula io andu stai io stavo visto scusa ma dove cazzo sei quanti siamo qui dove sei stare a destra a destra ok 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 24 6 8 10 e 15 siamo 15 punti con il paolo ok un casino che dove andiamo lo andiamo lo andiamo lo andiamo i tutti voi vai 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 per il tampone per sicurezza allora ci si può anche parla di bine con me con me con me eccolo dall'alto criniera si dice criniera criniera si si la criniera eccolo eccolo fuoco alle polveri che cazzo peccato vai vai qui eccolo eccolo ragazzi altro che angelo vai lì del castello sul bombardiere eccolo 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 beccato ultimi colpi ultimi colpi grandissimi pare che questi ci vengono davanti angelo aspetta aspettami aspettami che ti vengo sono dietro di te eccolo eccolo aspetta che amo lì aspetta che mi metto il cingolo dai no no mi sta bombardando da destra mi stanno bombardando ho due hanno distrutto uno dei nostri carri scusa ho capito ma se loro stanno lì io faccio il giro da sotto e faccio prima no aspetta un altro aspetta un altro aspetta un cazzo vai oh oh l'occhio hanno distrutto stanno sta venendo giù belle eh oh chi c'è lì? ci hanno visto sei riusciti a fare il giro da giù prova sti figli vai 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 aspetta aspetta non so se lo devi vedere comunque c'è ancora tantissime persone eccolo 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 secolo 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 eh aspetta stai secondo te ho preso divisa ti ha sgamato ho sgamato alla destra ti ha sgamato ho due proprio sulla tua destra tu giri eccolo carico rottino alguardo porco due ecco bravo angelo un applauso per angelo 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 porca puttana world of tank eh world of tank ma guarda la cucina torna l'officina ma guardate pensate questa ragazzi persa via ora il caro armato rimane intanto in battaglia tanto è distrutto dai legati coglioni scelto il t2 medio fai ho preso l'inglese che palle ragazzi pure qui sì mi dispari questi giri torretta sento qualcuno che fa sono cani ciao dudu c'è c'è dudi e bubble anche il piccolino c'è fare un plotone di 15 persone è un casino se che voi tutti poi non si capisce niente quello li è se ebola si fa silenzio radio eccolo dai bubble with the park with the park ascolta amico io direi fare tutto il giro largo sulla destra guardando così la mappa destra 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 tutto in fondo in fondo in fondo in fondo si ma bisogna dar piano è perché c'è il caro armato che non corre ok andiamo piano io non ce l'ho disponibile con un'altra battaglia dove sei 6 è perché di aspettare vendi in 10 secondi e che coglioni dove sei dove sei dove sei dove sei che mi ha messo il passato a questo qualche è ok a destra a destra così se premi l'arretta ingrandisci la mia mira ecco lo beccati quelli premi non entrare troppo nell'acqua ecco ecco se non c'è varietta e bella nessuno si vabbacchiamo non è diventare del carca c'è la collina davanti e devono si devono eliminare questo di stare più vicino possibile non è più preciso ecco l'inglese che l'ho eccolo adesso ci arrivano io direi di puntaccia che non ti dice dai 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 spara l'abbiamo preso no un beccato oh mi stanno a morire mi stavo uccidendo aiuto dove sei dove sei dov'è ma voi lì sei smettato in bocca c'è proprio là ma là stai sparando all'edificio là deve stare in cera guarda qui sono ancora meglio il nemico ci ha del mirino faccio una ma è scopo mozza che te lo scopo il fiocco eccolo bravi complimenti sono morto porca puttana dubbido mai detto no si però sei davanti dove sei? dove sei davanti ma quello è fuori morto dove è bobo? è morto anche tu sei morto su torna all'officina eppure questa è andata eppure questa no non so se l'abbiamo persa boh dai eeeh angelo vediamo di giocare seriamente quando non c'è tutta questa interferenza perchè prima non ricevo giocare ho lì che miravo arrivava lui mi premevo per sparare sparavo sbagliato che facciamo? boh direi che per oggi può anche bastare così basta si dai facciamo un altro più serio questo è più cazzeggio ragazzi pure questo video è andato ma abbiamo presentato questo nuovo gioco scaricatelo che facciamo plotoni da 100.000 persone tutti tutti non parliamo non ci capisci più una minchia giusto? facciamo festazza festazza si si un party un party un mega party boh ragazzi se vi è piaciuto come sempre pagina su facebook dei congiuntivi se no eh se no commentate sul video su video su youtube lasciate un like mi raccomando un like scaricate il gioco e ci sentiamo ciao a tutti ciao ciao